buongiorno a tutti benvenuti alla resegna stampa del 31 agosto 2020 oggi è lunedì si apre una settimana ma si chiude un mese il mese di agosto un mese molto caldo ma che in queste ore sta vivendo invece momenti anche difficili dal da questo punto di vista perché come vedremo tra poco dai giornali ci sono zone che sono state colpite pesantemente della nostra regione dal maltempo ma andiamo con ordine e partiamo dal calendario di oggi per vedere i santi oggi la chiesa ricorda i santi giuseppe darimatea e nicodemo andiamo a gerusalemme dove c'è la commemorazione appunto dei santi giuseppe darimatea nicodemo che raccolsero il corpo di gesù sotto la croce lo avvolsero nella sindano e lo deposero nel sepolcro il sole è sorto alle 6 32 e tramonterà questa sera alle 19 e 50 il tempo la giornata oggi secondo quanto prevede la protezione civile delle marche sarà ancora nuvolosa con precipitazioni dalla prima parte dalla prima mattinata precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio temporale localmente di forte intensità più insistenti al sud della regione attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio domani il mese di settembre si apre con un cielo irregolarmente nuvoloso ancora in mattinata saranno possibili isolati rovescio temporali lungo la fascia costiera tempo stabile per invece il resto della settimana forse un po' di instabilità nella giornata di giovedì e adesso come facciamo tutte le mattine andiamo a salutare tommi tommi il bagnino tommi che come vedete oggi è ben coperto perché la situazione insomma al mare non è proprio tipicamente estiva anche se non è freddo diciamo la verità insomma non è freddo però tommi buongiorno buongiorno marco allora tommi oggi è la notizia non è solo il bagnino è anche la notizia andiamo a vedere subito il giornale e apriamo il resto del carlino perché tommi di tommi e non solo di tommaso fugliugolini si parla questa mattina sul resto del carlino la notizia la foto che vedete in questo articolo del giornale nella foto che adesso il nostro regista riccardo manderà tutto schermo così la potete vedere bene anche voi da casa ecco tommaso lo vedete a sinistra con mentre riconosciamo matteo renzi massimiliano nori alessandro bindelli e alessandro morenzetti ora perché vi facciamo vedere questa fotografia perché tommi è la notizia perché ieri tommi ha salvato anzi sabato mi pare sabato ha salvato un ragazzino di 18 anni allora ci vuoi raccontare velocemente che cosa che cosa è successo sì marco praticamente io non ero in servizio quindi diciamo che massimiliano era il bagnino di turno in quella in quelle ore insomma è successo tutto verso le 18 quindi verso la chiusura del suo saltaggio è stato anche fortunato il ragazzo che inconsciamente con un mare che erano anni che non vedevamo perché era veramente veramente violento si è tuffato a ridosso delle scogliere che danno sulla passeggiata dell'esipo cioè quelle lì dietro che vediamo da te quelle lì dietro ecco quelle che si vedono dietro di te si è tuffato da lì e che cosa è successo fatto da lì è successo che chiaramente è entrato in una situazione di estremo pericolo perché non riusciva a muoversi perché lì il mare si da da scirocco quindi da 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 levante fondamentalmente da est si incanala molto forte in quella in quella in quel tratto di mare e lì c'è anche una corrente di ritorno molto forte quindi nello stesso momento ti porta verso verso fuori e ti mena verso gli scogli nello stesso nello stesso momento quindi praticamente ti rende impossibilitato a rientrare diciamo a riva o comunque di risalire sugli scogli come in questo caso si tratta di un ragazzino come scrive il giornale un ragazzo di 18 anni un ragazzo di origini rumene se non ho letto ho letto male ecco in questi casi visto che ho te tra i protagonisti insieme ai tuoi colleghi in questi casi una volta che si porta a casa diciamo e si riesce a riportare sano e salvo il bagnante prevale la gioia per aver salvato una vita o la rabbia per aver rischiata per averla rischiata ma guarda marco io sinceramente prima di riuscire a lavorare ragionamento ci ho messo tre ore quindi anche perché dobbiamo dire dobbiamo dire tommy scusa se vado di fretta che poi lui è stato portato al pronto soccorso voi lo stesso perché il rischio era che avevate dell'acqua nei polmoni sì sia io che massimiliano che siamo stati più tempo in acqua sì chiaramente rabbia ce n'è perché noi stiamo sempre molto attenti fischiamo le bandiera rossa c'era però poi ce lo siamo anche gufati la mattina io e te sì hai visto l'abbiamo detto quella mattina sono i coscienti che fanno il bagno al mare va beh però sono cose che succedono e per fortuna questo ragazzino potrà raccontarla così come è andata bene a voi marco sì marco mi concedi solo una cosa io vorrei vorrei ringraziare tantissimo anche alessandro morendetti alessandro bendelli che vengono citati di meno però alessandro morendetti soprattutto è stato determinante per l'intervento perché senza di lui non ce l'avremmo fatta uscire dall'acqua ok ti ricordi la fotografia dov'è in che posizione si era l'ultimo a destra ok perfetto allora grazie tommy grazie oggi immagino comunque sarai lì al lavoro il mare comunque mi pare tranquillo quindi non dovrebbero esserci problemi ma comunque insomma l'invito è sempre a prestare sempre molta attenzione grazie a tommy buona giornata complimenti a te e tuoi colleghi tra l'altro tornando sul sul giornale i rischi di annegare ieri lo hanno corso in in due non solo ai bagni carlo a sassonia ma anche ai bagni alda di ponte sasso dove sempre il giornale racconta di un altro intervento di salvataggio da parte dei bagnini si tratta di un canoista che ha rischiato grosso e bagni alda insomma e gli è andata bene e quindi anche qui in questo caso i bagnini li citiamo ivan bruschi di 25 anni nicola mariotti di 22 daniel rossi 19 hanno mentre hanno avvistato questo uomo che annaspava tra le onde l'hanno raggiunto a bordo del pattino di salvataggio il turista è stato soccorso dal 118 a causa della presenza di acqua nei polmoni e trasportato anche in questo caso al santa croce si tratta di un turista milanese di 25 anni in vacanza con la moglie con i figli finito in mare dopo il rilasciamento della sua canoa gonfiabile e allora andiamo adesso a vedere invece le prime pagine dei giornali questo è il resto del calino edizione di pesaro il sondaggio è impietoso per il centro sinistra mangialardi sotto di 15 punti rispetto ad acquaroli profondo rosso questo il titolo d'apertura della fotonotizia la vedremo tra poco nell'interno e poi vecchio palace per il roffa ce la faremo l'assessore belloni e le polemiche sui tempi dei lavori per la prossima estate dice l'assessore sarà pronto e poi ecco l'abbiamo appena sentito dalla via voce di tommy il bagnino si tuffa dalla scogliera e rischia di annegare tre bagnini lo salvano l'immobiliarista invece tesei che dice sono pronto a comprare l'hotel cruiser ma loro in casa invece muore a 18 anni durante le vacanze una tragedia che si consumata a pesaro affano invece la protesta degli ambulanti sloggiati qui non si batte uno scontrino sotto di taglio basso lo sport vuole al lavoro in vista dei test veri verso la supercoppa calcio di serie c vis caccia tre under mentre sulla fronte dell'alma servono rinforzi e adesso il corriere adriatico sempre l'edizione di pesaro apre con il covid scudo per le marche vaccinazioni di massa e riorganizzazione delle strutture sanitarie ecco il nuovo piano pandemico nella regione 15 nuovi casi positivi intanto crescita giornaliera intorno allo 0,2 per cento ma ci sono due province a quota zero ovvero ancona ed ascoli a centro pagina la foto notizia mense scolastiche timori per il personale in calo le richieste movida molesta pesaro a levante il blitz con cani antidroga sempre pesaro anziano ragginato raggirato in due lo derubero di oltre 3 mila euro era andato a fare un bancomat e poi a fano basta con i ritardi il comune accelera sui cantieri sotto basket serie a palace da riaprire con una capienza almeno del 30 per cento paolini e il rebus del vl sondaggio andiamo a vedere questo sondaggio politico per quanto riguarda le prossime regionali mangialardi sotto di 15 punti il 62 per cento però dei marchigiani è convinto che la regione abbia gestito bene l'emergenza covid il 53 per cento promuovi cinque anni dell'amministrazione guidata da ceriscioli ma il 51,8 per cento è pronto a votare francesco acquaroli alle elezioni del 20 21 settembre consegnando dunque le marche alla centrodestra l'ultimo sondaggio regionali è una mazzata scrive il giornale per il pd e il centro sinistra il cui candidato maurizio mangelardi arriva al 36,1 per cento cioè oltre 15 punti sotto rispetto al deputato di fratelli d'italia una voragine che stando ai dati non sarebbe stata colmata neanche dall'alleanza che poi tra l'altro sfumata con il movimento 5 stelle visto che il candidato grillino gemmario mercorelli si ferma all'otto per cento lo rivela un sondaggio win pull cise per il sole 24 ore e a gettare benzina sul fuoco ci pensa anche oriano giovanelli che commenta questi dati per il carlino o si capitalizzava il buon giudizio sulla gestione della pandemia o serviva vera discontinuità dunque è stato evidentemente un autogol a questo punto col senno del poi incredibile e tremendo quello del pd che ha sinurato ceriscioli che comunque nell'ultimo rush finale appunto sulla questione covid aveva agito bene e dunque si era conquistato la fiducia appunto del 62 per cento dei marchigiani quindi avrebbe vinto tranquillamente poi però ci sono stati evidentemente come dice anche giovanelli degli errori nella gestione della candidatura andiamo sull'altra pagina del carlino ma allora in casa muore a 18 anni il ragazzo originario di rimini soggiornava da un'amica di gradara inutile la corsa in ospedale è una pagina terribile questa di oggi del resto del carlino ci sono tutti morti giovanissimi diciottenni poco più di ventenni insomma due in particolare uno questo malore probabilmente anche se adesso bisognerà vedere nel dettaglio meglio anche con l'esame autoptico il motivo di questo decesso siamo a pesaro dove i carabinieri non intendono esprimere valutazioni su quello che è accaduto si è appreso che questo giovane assumesse da tempo medicinali legati al suo stato depressivo da qui la verifica da parte degli inquirenti di eventuali assunzioni di un eccesso di medicinali che possano aver provocato l'arresto cardiaco l'unica testimone di questa morte è la l'amica di questo ragazzo che gli aveva dato ospitalità e che non si capacita di quanto possa essere successo ma poi c'è un altro ragazzino un altro ragazzo di 26 anni che questa volta però in modo chiaro almeno per i carabinieri aveva deciso ha deciso di farla finita un 26 n di villa fastigi che si è tolto la vita impiccandosi con un filo elettrico nella sua camera da letto non si conoscono nei motivi perché non ha lasciato nessun biglietto non ha spiegato nulla si sa soltanto che il giovane era sofferente di problemi depressivi faceva uso di psicofarmaci e sembra che già in passato avesse tentato in qualche modo di farla finita poi ci sono i funerali invece di un altro ragazzo molto giovane un altro 18enne questa volta la causa della morte è un incidente un incidente che ha ancora un po come dire non è chiaro del tutto nell'interquartiere di pesaro un 18enne che a bordo della sua motocicletta dopo essere stato al lavoro voleva raggiungere gli amici per passare qualche ora con loro e a un certo punto si è schiantato contro un palo domani ci saranno i funerali di russi così veniva chiamato dagli amici nella chiesa di montecchio l'orario è alle 16 questo signore che invece adesso vi facciamo vedere nella fotografia in questa foto gigante del resto del carlino è domenico tesei a 76 anni figlio di un fornaio di santa veneranda a pesaro ed è interessato a comprare l'hotel cruis lui ha una storia quasi da film ed è uno dei più grandi immobiliaristi di londra ha lavorato negli stati uniti e poi anche nei paesi dell'est a praga e dice ora sto per concludere una grande operazione su bilano ma non posso dire i particolari e una delle prime volte che è tornato a pesaro a trovare i parenti è stato nel 1966 quando entrò in città su una roll royce e a proposito dell'hotel del cruiser dice a me piace anche perché nello stabile qui accanto avevo comprato tre appartamenti per i miei genitori è un luogo che mi è caro e in fondo per me si tratta dice così di un giocattolo non frequenta più amici pesaresi ma solo parenti anche perché con molti non ho più cose da dire dice e siamo ormai troppo distanti e c'è comunque un racconto se vogliamo un po diverso nel senso anche particolare affascinante per chi per chi sogna di essere ricco tra le sue amicizie c'è anche lo scia di persia il manager dei beatles e il produttore di tanti film di 007 insomma è una storia che si può leggere ancora non dico sotto l'ombrellone perché oggi il tempo non è da da mare ma comunque magari al bar con un cappuccino strage di tapparella invece qui andiamo a i danni sono seri e c'è poco da fantasticare c'è il problema di tantissimi anconetani che hanno l'auto distrutta dalla grandine grande come mandarini guardate sotto l'effetto provocato da questa grandinata violentissima qui ci sono tante finestre tante tapparelle rotte distrutte bucate guardate crivellate da questa grandinata record palle di ghiaccio come mandarini palazzi che sembrano uscite da una mitragliata tutti mettono sui social le foto delle finestre martoriate e si disperano sapete chi le ripara oppure chi le cambia e adesso chiaramente così come avverrà per i carrozzieri si prevedono affari d'oro molte le vetture infatti completamente bozzate e se non c'è l'assicurazione è un problema andiamo sulle pagine del Corriere Adriatico quelle poche che possiamo farvi vedere perché purtroppo lo dico un po' dispiaciuto ma abbiamo rinnovato l'abbonamento ma purtroppo non ci danno la possibilità di scaricare il pdf e di conseguenza siamo costretti un po' a fare qualche magheggio ma insomma sono poche le pagine del Corriere che possiamo farvi vedere e quindi ci accontentiamo di queste. Allora da Pesaro in due la cronaca raggirano e derubano un pensionato di 3.000 euro è successo intorno alle 19.30 di sabato nel centro storico di Pesaro i carabinieri hanno raccolto questa denuncia di un 76enne che si è recato allo sportello di un istituto bancario in corso 11 settembre dove è stato visto due malviventi che senza troppo remore si sono avvicinati un paio di parole per rompere il ghiaccio poi i due hanno messo in atto il loro piano mentre a Levante la movida non si ferma e arrivano anche i cani antidroga controlli sul lungomare Sauro in piazzale d'annunzio in spiaggia dove si radunano i ragazzini un'operazione di prevenzione per numerosi committive presenti ora va detto che tantissimi di voi in questo fine settimana ci avete mandato video di assembramenti di feste in corso in spiaggia nelle colline dell'entroterra insomma ce n'è da farci veramente un documentario ora è chiaro che le forze dell'ordine non possono essere ovunque e di conseguenza si fa sempre leva sul buon senso della gente insomma siamo qui ormai da settimana a raccontarci che stare assembrati in questo caso in questo modo è rischioso e dunque insomma bisogna metterselo ben in testa questo soprattutto i giovani soprattutto i giovanissimi andiamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico sipario di follia genio e provocazioni passaggi chiude con Toscani a Levi la rivoluzione secondo il musicista mentre parla il fotografo Toscani che prima aveva detto non posso più venire a festival invece poi ha cambiato idea anche io vorrei comprare come Bansky una nave per migranti e questi sono i due momenti uno con il musicista maestro Giovanni a Levi nella piazza gremita per lui e sotto il fotografo Oliviero Toscani saluto sul palco con le stampelle da Senigallia migranti in fuga dalla quarantena presi alla stazione dei carabinieri i due giovani iracheni multati per non aver rispettato le norme anti covid la fotografia qui sotto vedete la mostra i carabinieri alla stazione di Senigallia che bloccano i due giovani pakistani che non volevano fare la quarantena una maxi sanzione poi ad un venditore abusivo individuato in piazza Simoncelli ad ancora invece la notizia drammatica di un giovane che muore durante l'intervento era alla sua quarta operazione al cuore la procura acquisisce le cartelle cliniche a torrete ma i rischi erano già alti in partenza morire a neanche 30 anni durante un intervento chirurgico al cuore capita anche nei reparti della sanità d'eccellenza come la cardio chirurgia pediatrica degli ospedali riuniti di ancona uno staff di specialisti capace di inanellare negli ultimi otto anni performance tra le migliori d'italia con una mortalità ridotta allo 0,5 per cento dei casi su una media di 230 interventi l'anno e purtroppo uno di questi rarissimi esiti in fausti dell'intervento al cuore costato la vita sabato a giuseppe lupi un giovane abruzzese di ancarano in provincia di termo che purtroppo appunto era la sua quarta operazione non è riuscito a sopravvivere e quindi è rimasto come si dice sotto i ferri e questa è la notizia che troverete sul corriere adriatico di questa mattina c'è tempo per lo sport sulle pagine del resto del carlino la vis pesaro a caccia di tre under ma poi c'è la partita voltan domani si apre ufficialmente il mercato crespini cerca solo giovani però la partenza del fantasista aprirà le porte a un colpo over a gennaio le offerte furono di circa 200 mila euro ora si cerca un compromesso e l'undici settembre invece c'è un altro test di lusso sfida ferrara con la spalla sotto sul fronte invece del fano calcio l'alma juventus fano il mister l'allenatore alessandrini stringe i tempi servono dice lui rinforzi il tecnico capisco che il cambio di proprietà ha portato rallentamenti ma ora mi aspetto delle novità dunque è impaziente si apre il mercato e di conseguenza insomma dice la sua nella speranza che chi scuce i soldi per comprare i giocatori capisca quali sono le esigenze dell'allenatore cioppe invece sul fronte del basket di serie A a pesaro la VL lavora duro sulla difesa il problema sono gli aiuti e quindi anche parlarsi la squadra parte il 2 per Olbia e il primo incontro è fissato alle 17 contro la squadra del Brindisi in Sardegna non sono previsti spettatori mentre in Emilia Romagna si è giocato con i tifosi sugli spalti ed è tutto per quanto riguarda questa edizione della nostra rassegna stampa l'informazione su fano tv torna questa sera alle 20 e 30 con il telegiornale occhio alla notizia grazie per la vostra attenzione buona giornata e grazie a tutti